Allora, non c'è realmente nessun elemento di sostanziale novità. Ecco, se posso partire con un'affermazione una volta tanto. Nel senso che il succedersi delle numerosissime varianti del gruppo Omicron che sono derivate dalla prima Omicron 1 del gennaio del 2022 ha determinato una sola caratteristica che queste varianti che forse sono immunologicamente appena meno potenti contro l'ospite ma non più di tanto nel loro costante differenziarsi, nel loro mutare mantengono elevata la circolazione. Quindi che cosa ci dice il contesto che oramai abbiamo imparato a leggere? Che a differenza del concetto che abbiamo di immunità di gregge per la rosolia immunità di gregge vuol dire che siccome tutti sono vaccinati, tutti sono immuni o il grosso della popolazione è immune, il virus non circola. Stesso discorso per il morbillo. Queste varianti, inclusa l'ultima, ci stanno dimostrando che questo virus che tende ad adattarsi alla popolazione generale che incontra nel grosso della popolazione un'immunità ibrida importante ha però delle risorse di variabilità genetica ha delle caratteristiche per continuare a mutare e a circolare ampiamente. Cosa vuol dire? Vuol dire quindi che noi abbiamo una popolazione che incontra un virus che gli fa poca paura o quasi niente. Su questo quasi io sono un po' dubitevole alla luce di tutte le manifestazioni di long covid che continuiamo ad accogliere qui quotidianamente. Quindi è un virus che qualche fastidio tende ancora a darlo un po' a tutti. Però c'è un grosso della popolazione con una forte immunità che non riesce a bloccare la circolazione delle nuove varianti però per cui i fragili cioè quelli che hanno sviluppato meno cellule e meno anticorpi nei confronti del covid in generale continuano a essere esposti un pochino come all'inizio in molti casi un po' meno ma in altri casi molto come all'inizio. Questo è il contesto. Quindi che cosa vuol dire rialza la testa? Vuol dire che la circolazione con questa nuova variante sta avendo un certo rinforzo ma l'abbiamo avuta costantemente per tutta l'estate e quindi ci sono più persone fragili che ricevono il virus quindi più persone che per fortuna fanno subito ricorso io raccomando di continuare a fare così al nostro The Hospital Covid per l'infusione se necessaria di antivirali e di monoclonali per bloccare anche nel fragile la progressione di malattia e abbiamo qualche ricovero in più rispetto a 0, 1, 2 malati abbiamo adesso una 7, 10 malati covid in giro per l'ospedale. Quindi stiamo in una fase di inizialissimo incremento della circolazione ma il contesto è quello che vi dicevo cioè le nostre ultime varianti confermano che il virus non si fermerà quindi i fragili devono essere protetti sicuramente il The Hospital quando si infettano però ben venga la raccomandazione della circolare ministeriale che suggerisce, invita e raccomanda una dose di richiamo annuale per tutti gli ultrasessantenni e per i pazienti fragili. Grazie Grazie Grazie